benvenuti in kiwi e posso fare i complimenti o porca voi pare che te stavi a sposare lo elegante proprio perca buttare elegantissimo già crami oppure la cravatta in tinta con la giacca lavora qua lavora è un'amica pieno di amici sta l'ello ma è buon divertimento quando ci vediamo belli di chiamate alla mia mia lana anche quale problema chiuditelo bene meglio meglio io spero che gli piace non so se ti piace ho bellissima vabbè però prova te la sanno ti faccio l'altro ti faccio l'altro buco sei troppo larga e poi vabbè ho preso un braccialetto non so se ti piace una cosa così tranquilla un braccialetto così tangui e portai chiavi così bra senti naco lello allora lo famo il curriculum facciamo il curriculum tu sei il curriculum che cosa allora che lavoro hai fatto tu dimmi il primissimo lavoro che tu hai fatto quale sono stato sempre delle imprese di pulizia uno per quanto tempo ho fatto anche il cameraman quello quello lo sape il cameraman poi altre cose varie giardinaggio qualche volta pure quindi qualche lavoro si può trovare qualche altro la oltre questi cosa ti piacerebbe fare immagina che il bodico il bodico il bodico il bodico avvenale non si meno qualcuno qua di di sto paese che non lo diciamo c'è sta qualcuno che ti prenderà per lavorare non mi faccio proprio giardina a tagliare le foglie secche ad anna sistemata metto l'orecola giardino qualche sa o io qua sta tutta ma io bastano un cristo che ci sarà qualcuno che ti parla un altro lavoro tipo falegname ma è buono che mi hai fatto che il falegname alla falegname alla falegname se sbagli diventi così diventi un giro vabbè spero che qualcuno ti chiama e così ti paghi piano piano tipo quando andiamo a prendere la poltrona questo non lo devi dire a me non lo devi dire a me quando viene appena poltrona ma vi se facciamo una cosa tutti insieme un giretto tutti insieme a roma quando sarà se sarà vabbè quinta vostri mai fatto perdere discorso mai mai fatto perdere di scuola gli amici di roma non li saluti mai che te l'ho detto a te fammi vedere a me fammi vedere il bordello che farò non capisco che abiti c'hai? non ti capisco a se le dicate sono chi di dico tipo bollette? eh po bollette? e giura di che? per pagare le bollette come cazzo le paghi a bollette? e poi li metto sulla carta quando la collocando un po' lì e poi se paga perchè viene timbrato metto la carta quando c'è posta per te ah direi tu vieni c'è posta per te dai c'hai pagato un bollette hai pagato un bollette perché si dice posta telegrafico vieni c'è posta per te ah e c'è posta per te e paghi le bollette tu paghi tu paghi con il labor che ti troverai se qualcun si si mette a fare la labor e tu fai foto che sono l'anguele a marco si tranquilla tu anguele a marco si è educato quando voglio sì quando voglio o no quando vuoi sì quando vuoi se uno ti fa incazzare e tu andi che succede a baldò se uno ti porta rispetto da rispetto io ti volevo chiedere ti ho portato rispetto l'altra volta che sono venuto guarda lo stesso se lo dicevo da 4 cambiare a che è meglio invece no tu mi hai prendato a tarantella e mi hai prendato a tarantella no no io non vorrei non voglio prendere a tarantella sei ben chiaro ma tu ecco senti una colè conosci tu tiktok conosci il tiktok chi ti mette a fare no faccio vediamo un po faccio l'aperitivo e poi dopo c'è chiacchio faccio con gli altri ho visto l'altra volta che hai pure accarezzato il gatto il gattino suo il gattino suo la gattina e qua non c'è sta qualche gatto forse secondo me secondo me se qua c'è sta qualche gatto lo accumulé di qualche gatto e Saura la mano no no certe volte sono meglio gli animali che certe volte torse che mi riguarda che animale preferisci tra gatto e cane che animale preferisci meglio il cagnolino però quello che cos'è il caso di porta ogni volta a pisciare lo scendo a pisciare strappato è stata la moda quello piano piantando i debiti la stanno finché non li paghi e voglia stare babulello è stato un piacere anche per me è stato un piacere mi raccomando noi ci vediamo alla poche quando scenderò di nuovo una scena prima ti prendi un animaletto un cagnolino se passa da queste parti un gatto tu piano piano e da mani e poi i gatti o cagnoli se bacche da queste parti piano piano ed è da maniato fai amico è stato un piacere io ho detto la prossima volta che a te pure la prossima di già da mo dico ufficialmente lo dico non so quando potrò scendere di nuovo 10 scena che quando scenderò di nuovo la prima cosa è avvisarti e ti vengo a trovare il riporto come ho fatto prima il regalino il pensierino non è tanto non riesco a non riesco a campare però meglio un pensiero per te lo c'è sempre quando vieni a roma ma non prende la poltrona non per da poltrona avvisami avvisami e di e dirglielo a lui che mi voglio vedere con chi wir e 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 chi chiamami come te pare chiamami come quando torno che non so quando torno io ti verrò a trovare babbo 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 saluda delicia di ciao ma è buon divertimento ciao 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 ciao